Il 2021 è partito bene per il Chianti Classico, che nel primo quadrimestre ha segnato un più 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le 11.000 bottiglie vendute sono addirittura il 7% in più di quelle del 2019, prima della pandemia. Il calo delle vendite nell'anno del lockdown, meno 8%, era dovuto principalmente alla chiusura di hotel, bar, ristoranti, che rappresenta mediamente il 40% delle vendite. E la buona notizia di quest'anno è dovuta, spiega il presidente del consorzio Giovanni Manetti, alla struttura commerciale del Chianti Classico, che lo vede distribuito in 150 paesi del mondo, che in media assorbono l'80% della produzione. Nel 2020 il mercato interno più in difficoltà per la ristorazione chiusa da mesi, spiega ancora Manetti, ha pesato per il 20%. Siamo in crescita in USA, che valgono il 33% delle vendite, e in Canada, e registriamo un aumento sensibile delle vendite anche in Inghilterra. Ci sono poi segnali incoraggianti anche dalla Cina, Giappone, Corea e Thailandia, che stanno facendo ordinativi importanti. Il consorzio Chianti Classico ha inoltre previsto, a partire dal mese di giugno, una card per il turismo enogastronomico nella zona del Gallo Nero. A seconda del pacchetto scelto, da 37 o 50 euro, si potrà avere accesso a oltre 200 esperienze, dalle degustazioni in cantina, ai picnic in vigna, alle visite ai musei. Non sono andate male nemmeno le vendite dell'altro re del vino toscano, il consorzio Chianti, diversi sono i territori di produzione. Al 30 aprile 2021 registrava un più 11% rispetto allo stesso periodo del 2020 e più 9% rispetto al primo quadrimestre 2019.